Confermo che il partito per Draghi c'è, è in grande mobilitazione, quindi la previsione del professor Campi è assolutamente fondata. Ma Draghi non lo vuole? Ma non è di Draghi, è il partito per riportare Draghi alla presidenza del Consiglio dopo le elezioni, quindi Draghi non sarà in campo. Draghi ovviamente se ne sta fuori, il lavoro sporco lo facciamo noi, poi il partito punta a riportare Draghi alla presidenza del Consiglio dopo le elezioni. Ma guardate, dipenderà da quello che facciamo noi, perché non è che ce la possiamo prendere con Draghi o con chi vuole Draghi. Se noi come soggetti politici non siamo in grado di mettere in campo delle idee, delle donne e degli uomini di qualità, è inevitabile che poi arriva qualcun altro. Quindi il compito sta sulle nostre spalle e dovremmo essere in grado di affrontarlo. Da sabato sono un pochino più ottimista perché ho visto che è maturato, sta maturando uno spirito diverso. Non mi illudo, non do nessuna, come dire, prospettiva rosea, però ho visto una maggiore consapevolezza. E su questo, se i cittadini appunto aiutano anche la politica a ricostruirsi, possiamo fare di passiamo. Un interesse nazionale europeo sull'acea anche con i nazionali. Hanno assolutamente ragione. Prima io dicevo, l'interesse nazionale, deve avere delle linee guida condivise da tutti o da quasi tutti. Poi dentro quelle linee guida che dobbiamo condividere, ciascuno si articola. Ma è evidente che quello che è successo in questa legislatura non può ripetersi. Tu non puoi oscillare tra la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. Un grande paese con le fragilità che ha l'Italia. Perché guardate, ora non se ne occupa più nessuno, ma noi siamo in condizioni molto complicate sul piano della finanza pubblica. Se ripartono i tassi di interesse, noi cappottiamo. Quindi abbiamo dei problemi molto seri e dobbiamo decidere qual è la nostra via che seguiamo come paese. E poi la decliniamo in modo diverso. Ma una classe dirigente, io su questo ho insistito anche per la nascita del governo Draghi, e mi è spiaciuto che Fratelli d'Italia non abbia partecipato. Perché il governo Draghi può essere un'occasione di riconoscimento reciproco e di individuazione di una linea condivisa sull'interesse nazionale. Che non vuol dire che poi facciamo le ammucchiate. Vuol dire che però abbiamo una rotta che, ripeto, poi articoliamo in modo diverso. Il governo Draghi poteva essere questo, l'elezione del Quirinale poteva essere questo. Mi spiace che non lo è stato, perché poteva essere un grande momento di riconoscimento reciproco. Perché se noi non facciamo questo, arriverà sempre un tecnico a commissariare la politica. L'Italia ha questa straordinaria anomalia, da Ciampi in poi, che deve arrivare, unico caso al mondo, figure esterne alla politica, perché non abbiamo la capacità di riconoscerci reciprocamente. Facciamo questo, condividiamo l'interesse nazionale e poi la politica riprendeva quel privato. Non è nulla di politico, è una cosa solo personale. Io comunque adoro la purezza e l'onestà intellettuale di Stefano. Pur pensando su molte cose diversamente da lui, ma tutte le volte mi fa effetto, perché la penso come lui, è puro e onesto intellettualmente. Vabbè, è giusto, è giusto riconoscerlo, ma credo sia... Recifroco. Recifroco. E d'altra parte Crosetto ha preso un sacco di voti, ma non ce l'ha fatta. E torniamo lì. Arrivare là su. No, 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 dimostrazione di affetto, abbiamo detto. Sono tutti i tassisti che mi chiamano presidente. E di riconoscere. È passato dal dottore a presidente, non essendo nessuno dei due. Vabbè, comunque. Grazie, grazie a tutti. A Campi, a...